I ragazzi dove ci hanno portato via tutta la merce, parliamo di genere alimentari, ma parliamo di gelati, mai successa una cosa del genere a Santa Fe. Noi abbiamo riaperto per questa manifestazione molto importante, meravigliosa, ma qua purtroppo è tutto difficile. Ma sicuramente beccheremo chi è stato, perché il Santa Fe è circondato di telecamere. Il problema è che noi poi domani mattina, perché oggi i negozi sono chiusi, dobbiamo ricomprare tutto per questi due giorni di manifestazione. Li voglio ringraziare personalmente, questi sicuramente bravi ragazzi, hanno lasciato delle cose perché passava qualche macchina. Abbiamo trovato addirittura anche un prosciutto in fondo prima della spiaggia, abbiamo trovato delle casse d'acqua. Li volevo solo ringraziare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.